Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 25 luglio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Orosco Pariete. Conti a rischio già prima delle vacanze. Nulla di preoccupante, probabilmente avete solo sbagliato i conti o largheggiato con le spese, sta di fatto che il budget previsto per le vacanze prima ancora della partenza comincia a mostrare qualche falla. Solito problemino per gli insicuri e per i frustrati in amore, che cercano di colmare vuoti e placare i rimpianti con cenette superstellate o shopping da emiro. Almeno acquistate roba utile e di qualità, non di griffe oggettistica di valore, specie artigianato locale e libri in cima alla lista delle preferenze, gli indumenti passano di moda, ma la cultura no. Lavoro e conti stringendo i denti, ormai fate il conte dovono, tre giornate lavorative, ma dopo mezzogiorno cominciate già a toglierne una. Sarà il caldo torrido arrivato all'improvviso a tagliarvi le gambe, dopo un giugno quasi autunnale, sta di fatto che vi sentite spompati e irritabili, effetto avvertito maggiormente per via della luna pesante con Saturno in dodicesima casa, la più affaticata delle dodici. Se la scordi la vostra adesione chi vi ha invitati a una festa stasera, l'allegria di Giove è tentatrice, ma le vostre forze proprio non ce la fanno. Uomo di media età inaffidabile, talvolta disonesto e infedelle, con una difficile situazione alle spalle. Sperpero di denaro ed eccessi di spesa. Dal punto di vista economica o si vivono o si stanno per vivere delle difficoltà evidenti. Archiviate una storia che appartiene ormai al passato. Voltate pagina. Se qualcuno vi fa soffrire è inutile insistere, non cambierà mai. Se oggi scapperete dall'amore questo vi seguirà, ma attenti potreste diventare delle dolci vittime. Oggi non date niente per soccantato ma cercate di capire bene le ragioni che vi aiuteranno a trovare la chiave giusta per risolvere qualche problema, soprattutto in amore. Qualcuno si sta prendendo gioco di voi oppure vi sta tendendo una trappola, non mortificate la vostra personalità e prendete le misure necessarie per evitare di cadere nella ragnatela di qualcuno che vorrebbe ridere alle vostre spalle. Un amore lontano potrebbe tornare a bussare alla vostra porta. Sta a voi decidere se accoglierlo o annullarlo per sempre. Molte buone notizie in arrivo a partire da oggi, non tutte saranno sorprendenti, ma tutte, o quasi, saranno positive. Buone occasioni anche in amore. Negli ultimi tempi la vostra vita è andata su e giù come sulle montagne rosse, poche certezze e tanti dubbi. Oggi alcuno potrebbero ricevere notizie inattese, soprattutto in campo sentimentale, in grado di stabilizzare la vostra vita. Inizia a prendere in considerazione l'ipotesi di dedicare più tempo a te stessa. E non essere distratta, potresti smarrire qualcosa di prezioso. Alcuni ritroveranno delle vecchie cose perdute e non è escluso che si possa incontrare qualche vecchio amico o vecchia conoscenza, una mattinata e un pomeriggio all'insegna del remember. Il sole leone in posizione fortunata vi rende lo spirito lieve e vi apre beneficamente alla socialità. In questa fase del mese di luglio siete più freschi di mente del solito e nello stato d'animo migliore per evadere, per godere dell'atmosfera estiva, del sole e del mare, con tutto il vostro entusiasmo. Solo chi di voi nasce tra il 17 e il 20 di aprile, dovrà fare attenzione agli eccessi gastronomico, edonistici. Imbrunciati e non potreste essere altrimenti, effetto della luna in pesci abbracciata a Saturno nella vostra dodicesima casa. Prove innegabili per chi è in azienda, anche in vacanza non siete in vena di imprese sportive o di futili chiacchiere, meglio una giornata tranquilla con lo sguardo perso tra le onde o il verde della pineta, leggere o meditare vi aiuterà a ritrovare voi stessi. Amore ed Eros. Insolita e inspiegabile timidezza, oggi siete gelosi dei sentimenti e un filo possessivi nei confronti dell'amato bene, poco male, significa che tenete particolarmente al rapporto, ma attenti a non peccare di sfiducia. Chi di voi ancora single, si scopre incuriosito da una persona nuova, conosciuta a una festa e di cui non sospettava potesse raccogliere il suo vivo interesse. Venere è al vostro fianco dal segno del leone e il fortunato duo Marte, Giove invece è super positivo dal segno dei gemelli. Si annuncia per voi una giornata serena per gli affetti, specie se avete al vostro attivo una relazione stabile. La programmazione di progetti come un viaggio o una vacanza vi tiene impegnati e vi fa condividere felicemente la febbre dell'organizzazione insieme alla persona che vi è compagna di vita adesso. Lavoro e denaro? Al lavoro probabilmente ci siete, almeno fisicamente, ma la mente vola altrove, inseguendo fantasie romantiche o percorsi interiori. Tutto ciò che si muove e si trasforma oggi riguarda il lato sottile e invisibile della vita, a uno sguardo esterno, infatti, apparite distratti e lontani. Unico richiamo alla realtà le finanze, grazie a un guadagno extra potete concedervi un lusso che vi procura contentezza. Plutone in acquario ben messo vi dona la forza per andare avanti. Siete agli sgoccioli nella vostra attività, prima di andare definitivamente in ferie? Pazzentate ancora un pochetto prima di andare incontro alle vacanze. Benessere. Ripresa da un problemino di raucedine o di abbassamento di voce, fisicamente state bene, interiormente siete in fase di trasformazione. Cantare aiuta nei momenti no, accendete la radio e seguite il ritmo. Denaro? Vi potete oggi permettere qualche piccolo lusso in più, specie se siete nati nell'arietina seconda decade. Giove dal segno amico dei gemelli vi garantisce una borsa moderatamente piena. Per lei, mixando intuito e ragione, il lato femminile e quello maschile, presente in ciascuno, potete ottenere il massimo da voi stesse e presentare la faccia migliore agli altri. Per lui, tempo perso a rimuginare su un evento che non merita tanta energia. Se qualcuno vi ha fatto uno sgarbo, anziché meditare vendetta parlatene a quattro chi, davanti a un aperitivo si fa in fretta a fare pace. Colore delle emozioni, giallo crema. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 8, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie a tutti.